Antichi mestieri e fede religiosa in un'atmosfera intima e suggestiva. Sono stati questi gli ingredienti vincenti per la riuscita della seconda edizione del presepe nella tradizione che si è svolto ieri pomeriggio a Frosolone. L'evento, realizzato dal comitato Pro Frosolone insieme al gruppo dei carristi del 1 agosto, ha riscosso davvero tanto successo. Grazie ai ragazzi carristi che ogni anno si dedicano alla realizzazione del carri del 1 agosto, questa è la seconda edizione, hanno deciso di unire le loro forze per realizzare qualcosa di bello anche durante il periodo natalizio, concentrandosi quindi sul presepe. Quest'anno la seconda edizione si è cercato di rendere appunto itinerante, sfruttando i vicoli e i locali del nostro centro storico, che è uno dei borghi più belli d'Italia. E quindi anche perché Frosolone può vandare anche una grande tradizione di artigianato, non solo della lavorazione delle forbici e dei coltelli, ma anche dei prodotti caseari. E quindi abbiamo voluto cercare di sfruttare tutti questi elementi per combinarli all'interno di un presepe e rendere tutto, abbiamo cercato di rendere tutto emozionante. La tradizione frosolonese degli antichi mestieri, dal coltellinaio allo scalpellino, dai cistai fino alle vecchie massaie di casa, e poi la fede, i canti e le preghiere, tutto questo ha reso magica un'atmosfera intima e intensa, che ha commosso i tanti presenti arrivati a Largo Vittoria per accogliere il Redentore. Ormai questo è il secondo anno che loro riescono a realizzare questo presepe, quest'anno con più recitazione, sono stati veramente molto bravi nel coinvolgersi, nel realizzare un po' tutto, non solo la capanna, ma poi anche le varie botteghe, le varie parti di questo presepe. Speranza, fede e fiducia, è questo il trinomio che stasera ha trionfato a Largo Vittoria Frosolone? Credo di sì, poi vedendo anche la risposta dei giovani, penso che ci si apre alla fiducia, alla speranza che anche Frosolone, anche questa nostra società, possa ancora dare molto e il meglio di sé. Grazie.